Eccoci bentornati su Go Games, siamo su TFD e in questo video andremo a vedere come andare ad affrontare la sposa cadavere. Parto da questo boss qui perché ho notato tra i vari commenti che è il boss che trovate un pochino più complicato, cioè da questo punto in poi fate fatica ad andare avanti. Se volete un video anche per i precedenti tre, ovviamente è ancora difficoltà normale perché come potete vedere non abbiamo ancora finito la storia perché ripeto come sempre il tempo è quello che è e lavorando non riusciamo a impiegare tantissime ore su questo titolo ma in ogni caso siamo riusciti comunque ad arrivare al piromane e abbiamo già preparato tre video per questi tre boss che ripeto ci sembrano i più difficili per la community. Per cui partiamo con la sposa cadavere e vi spiego come l'ho affrontata io. Intanto se cliccate sopra il boss riuscite a vedere i punti deboli del boss e potete andare avanti. Ci sono parti removibili e parti distruttibili quando in preda alla frenesia. Quindi tenete a mente che andare a guardare questo schema prima della boss fight vi aiuta a capire dove andare a colpire il boss. Dopodiché il punto debole del boss è l'esplosivo. Il boss fa attacco brivido quindi sostanzialmente è un boss che attacca con l'elemento ghiaccio e queste sono le sue resistenze per cui è molto debole al fuoco, normale all'elettro, è ovviamente forte al ghiaccio ed è forte all'avvelenamento. Qui c'è scritta anche il livello di resistenza all'attributo brivido. Quindi se fate fatica a rimanere vivi dovete andare a inserire una mod nel vostro discendente per andare a aumentare la resistenza all'elemento ghiaccio. Questo vi aiuterà tantissimo a rimanere in piedi e a non morire continuamente. Per cui prima di affrontare un boss date sempre un'occhiata a questa parte qui e allo schema appunto dei punti deboli. Di conseguenza una volta fatto questo dobbiamo andare ad aumentare la resistenza a brivido in maniera sostanziale perché qui richiede almeno un 1600 e come facciamo a farlo? Molto molto semplice. Andiamo nelle mod del nostro discendente e qui abbiamo gli anticorpi. Vedete? Anticorpi, antigelo, resistenza a brivido più 154 che è effettivamente bassa. Come fare ad aumentare la resistenza? Semplicemente andando a potenziare le mod. Vi faccio vedere questa che è anticorpi e anticalore e potenziandola arriva a più 2112 di resistenza. Stessa cosa quindi succede con le altre mod con gli altri elementi quindi calore, ghiaccio, veleno e elettro. Abbiamo poi un'altra mod che è questa qui rara massimizzazione resistenza all. In questo caso io ce l'ho di fuoco ma esistono anche gli altri elementi e questa qui ci dà sia la resistenza al fuoco in percentuale ma ci dà anche omaolus. Quindi dovete stare molto molto attenti se volete utilizzarla in aggiunta all'altra mod per avere più protezione perché vi va a scalare una percentuale di punti salute massimi. Non è altissima la percentuale ma comunque se fate tanto fatica a stare in piedi fate attenzione anche a questo parametro. Io l'ho utilizzata soprattutto con il boss che fa danni da fuoco e non mi ha creato grossi problemi. Anche perché nella build del vostro personaggio non deve assolutamente mai mancare l'incremento dei punti salute perché andiamo ad aumentare tantissimo i nostri punti salute. Per cui utilizzate le mod che vi vanno ad aumentare i punti salute e potenziatele. Andate a potenziare anche una mod che vi dà la possibilità di aumentare gli slot quindi più che gli slot i punti in cui possiamo andare ad inserire le mod come pugno shock ma può essere artigli come può essere taglio. Quello che vi pare a voi e di base per andare ad affrontare questo boss basta veramente aumentare un pochino la resistenza al freddo e avere comunque un po' di punti salute. Il personaggio che vi consiglio di utilizzare perché è molto molto veloce è ovviamente Bunny perché lei è appunto velocissima. C'è una mossa del boss che va a creare una cupola dove molto ampia oltretutto dove se noi rimaniamo all'interno ci vanno giù i punti vita lo scudo che è una bellezza con una velocità allucinante. Con Bunny noi riusciamo a scappare con la sua abilità L1 cerchio abbiamo la velocità necessaria per prendere veramente danni minimi per cui vi consiglio di utilizzare lei e di andare appunto ad aumentare la resistenza al freddo e ovviamente di andare ad utilizzare un'arma che vi dia la possibilità di fare un po' di danno. L'arma che ho utilizzato io è il Thunder Cage che abbiamo veramente tutti è una mitragliatrice è di rarità ultra spesso e volentieri mi sentirete leggendaria perché è gialla ma in realtà è ultra. E le mod fondamentali da andare ad utilizzare con il nostro Thunder Cage per andare a fare più danni sono rinforzo rigatura che avete da subito, concentrazione migliore che comunque dovreste già avere arrivati alla sposa cadavere. Questo si trova in un punto molto più avanzato del gioco quindi non ve lo consiglio ovviamente ma vi consiglio pioggia di proiettili questo dovrebbe essere già disponibile fin tanto che arriviamo alla sposa cadavere. Ma comunque se non avete questo vi basta in ogni caso andare a mettere rinforzo rigatura concentrazione migliore magari andate ad ingrandire il caricatore per andare a fare molti più danni e andate a mettere una mod in questo caso è potenziamento brivido ma ovviamente no andate a mettere una mod che vi va a potenziare il danno da fuoco cioè l'elemento fuoco. Come questa qui potenziamento fuoco aggiunge attacco di fuoco pari a un 8% dell'attacco d'arma da fuoco cercate di potenziare le mod che avete messo su e veramente riuscirete a farla fuori in pochissimo tempo io l'ho affrontata anche in solo l'ho fatta sia in gruppo e vi specifico che in gruppo i boss sono più difficili da affrontare direi anche giustamente cioè fanno più danno e in solo fanno un pochino meno danno. Però ovviamente siete da soli per cui tutto tutta l'attenzione del boss e dei minion che spawnano eventualmente sono tutti rivolti a voi per cui dovete stare attenti anche lì. Io l'ho affrontata anche in solo e non è assolutamente una boss fight difficilissima vi dirò che in solo è quasi più facile rispetto che ad affrontarla in quattro giocatori. Per quanto riguarda le mod se ci sono delle mod che state cercando in maniera particolare basterà spingere il tasto centrale della playstation 5 arrivare nel pad della playstation 5 ovviamente arrivare in questo menu quindi schippare la scheda sinistra con l1 e andare qui su moduli. Qui avrete tutti i moduli disponibili nel gioco e potrete andare a scoprire dove trovare le mod che vi servono. Nello specifico possiamo provare a vedere per esempio potenziamento fuoco clicchiamo quadrato e qui ci dice dove noi possiamo trovare la mod in questione. Clicchiamo qui e vedete qui ci dice qual è la zona disponibile adesso questa è una zona avanzata ci sono anche delle zone un pochino più accessibili anche a chi deve ancora affrontare la sposa cadavere ovviamente però è per farvi capire come funziona qui vi dice la regione in cui trovarlo e qui vi mette appunto la missione che lampeggia. Quindi vi dice se fate questa missione avete la possibilità di troppare questa mod e vi potete teletrasportare direttamente da qui. Mi raccomando controllate anche che tipo di colpi sono richiesti per andare ad equipaggiare le mod perché ogni mod o meglio ogni classe modulo quindi lo vedete qui dai colpi appunto questa classe modulo è colpi speciali. Qui abbiamo i colpi generali poi abbiamo i colpi impattanti e abbiamo i colpi a potenza elevata quindi ogni classe di arma monta la sua mod per cui nel caso di potenziamento di fuoco io vi ho mostrato questa che è per colpi speciali. Per quanto riguarda la mitragliatrice che andremo ad utilizzare noi invece dobbiamo andare a vedere appunto colpi generali per cui qui potenziamento fuoco vi mostro questo si trova tranquillamente a Kingston per esempio che è proprio la zona iniziale oppure a Vespri. Vedete qui ci cliccate e vi fa vedere dove poter trovare questa mod questa la potete trovare direttamente qui vi teletrasportate qui nell'avamposto nella zona di istruzione di Kingston e farmate questa missione se volete quella mod stessa cosa per le altre. Quindi giovani io direi che vi ho spiegato tutto nel dettaglio ovviamente se non sapete come andare a potenziare le mod lo faccio vedere al volo basta che andate qui da questo tizio da Cylion e andate a potenziare le mod se volete magari un video a parte dove vi spiego nel dettaglio tutte le mod come potenziarle come cercarle come trovarle come farmarle e tutto quanto. me lo dite vi facciamo un video a parte non andiamo ad allungare troppo il brodo in questo video quindi per andare ad affrontare questo boss è fondamentale quello che vi ho spiegato fino ad ora io vi lascio comunque alla boss fight se volete guardarla e potete vedere come l'ho affrontata in solo così anche da capire magari il suo moveset quando spam comunque determinati attacchi come raggirarli come cercare di prendere il meno danno possibile. Detto questo come al solito giovani grazie mille e buona visione. Grazie mille. I deeply Immobiliene. Ehi. Sì 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 Grazie. 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 Grazie.